Andiamo cercando di non essere condizionati dai due risultati negativi, ma di tenere presente le prestazioni che abbiamo fatto e sono state buone. Tra l'altro le abbiamo fatte contro due squadre forti, quindi dobbiamo anche rispettare l'avversario sapendo chi siamo noi e chi sono anche gli altri, perché se no rischiamo di fare confusione. Mantenendo quello che è stato la nostra caratteristica, quella del coraggio, di cercare di fare la partita, di cercare di mettere in evidenza le qualità dei calciatori come se non ci fossero stati questi due intoppi perché fanno parte della normalità. È la terza partita di fila dove affrontiamo squadre importanti perché la Sampdoria magari sulla carta potrebbe sembrare meno forte di Milan e Napoli. In realtà per l'organizzazione che ha da tempo e per la qualità di gioco, per l'identità forte che ha dato il suo allenatore è una partita difficilissima, ma noi questo lo sappiamo e stiamo cercando di prepararci al meglio, però dobbiamo pensare, come dico sempre, a noi perché abbiamo una squadra forte e deve mantenere tutto ciò che ha dimostrato in queste prime partite. La Sampdoria al di là del trequartista, che poi noi lì abbiamo il play, quindi lo assorbe abbastanza bene, ma la Sampdoria è una squadra organizzata, tra l'altro è allenata da un allenatore che stimo, che è anche un mio amico, quindi è una squadra difficile per tutti, non per il Sassuolo e non solo perché ha il trequartista, è abbastanza molto riconoscibile come squadra e in questi anni hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà con tutti, ultima con Napoli, che ha vinto 3 a 0, quindi la classifica è solo una conferma di quello che è il loro valore, sia dei singoli, ma anche dell'organizzazione, della qualità, dell'identità di gioco che hanno forte. Secondo me a Napoli noi abbiamo fatto una grande partita, sia nel primo e sia nel secondo tempo. Nel primo abbiamo concesso a loro diverse occasioni da gol, quasi tutte nate da errori nostri, non dal Sassuolo che si difendeva a squadra schierata, quindi con la palla al Napoli, con la palla nostra persa e allora si creava l'occasione da gol. Siamo andati anche a offendere diverse volte, abbiamo mancato nei dettagli, nel secondo tempo siamo stati un pochino più bravi a non sbagliare palloni facili e a essere un pochino più pericolosi negli ultimi 20 metri, tanto che abbiamo creato tante palla e gol. Però andare a Napoli e trovare il Napoli, che negli ultimi tre anni è la squadra che gioca meglio di tutte in Europa, che ha giocato il calcio migliore in Europa, e andare e fare la partita, perché abbiamo comandato noi il gioco sia nel primo sia nel secondo tempo, per il Sassuolo che è partito due mesi fa, secondo me è una grandissima cosa. Al di là del risultato, oggi noi dobbiamo vedere un pochino oltre quello che è il risultato, cercando di arrivare al risultato, perché lavoriamo per il risultato. Se uno vuole giocare deve accettare che ogni tanto si perda il pallone, purtroppo, perché se non vuoi mai perderlo devi tirare 50 metri avanti e sei sicuro che non prendi gol in transizione. Quello che ha detto mi ha messo anche in imbarazzo, in difficoltà, perché detta da uno probabilmente il migliore che c'è, anche Sarri ha parlato, ha usato parole belle, e sono tutte cose che fanno piacere. Però io, complimenti che ha fatto a noi, io li giro perché lo penso veramente alla società che ha allestito una squadra forte ai giocatori, perché so benissimo il valore mio, però senza giocatori di qualità e senza giocatori bravi nel seguire, si fa poco. Lo so perché ho fatto calciatore, so distinguere tra l'allenatore che cerca di fare il proprio lavoro e la qualità morale e tecnica dei giocatori nel seguire. Questi complimenti a noi non devono né farci girare la testa, né far finta di non riceverli, di non apprezzarli. Dobbiamo continuare su questo perché se la gente si accorge della qualità del sassuolo è una cosa positiva, dobbiamo prenderli e direzionarli nella strada giusta, nella direzione giusta, che è quella di continuare ancora di più su quello che stiamo facendo, ancora di più sul coraggio delle nostre idee e li mando quello che dobbiamo migliorare, c'è tanto da migliorare, con umiltà, come dico io sempre, dal lunedì al sabato e poi la domenica o il lunedì in questo caso andare belli pimpanti, coraggiosi. Boga è fermo, non sappiamo quando riprenderà, adesso verranno fatte delle valutazioni anche dallo staff medico. Boateng è fermo pure lui ma riprenderà martedì, è fermo, l'abbiamo fermato perché era parecchio che stringeva i denti e si trascinava un problema. Boateng è un valore aggiunto, fa la differenza quando sta bene e dobbiamo cercare di mettere tutti nella condizione calciatore di poter dimostrare il proprio valore. Da Ancan abbiamo dato un'altra settimana di stop perché non vogliamo privarcene per il futuro, perché è un giocatore determinante per noi e Rogerio è squalificato, rientra e sono molto felice per l'uso, sarà convocato, verrà in panchina, non me lo aspettavo così disponibile, così bravo anche e quindi è una cosa importante per tutti. Burabia sta bene, anche lui oltre a Raspadori che ha fatto bene, ha fatto bene pure Burabia, è stata la prima, e deve inorgoglirci questa cosa, è stata la prima convocazione nazionale, tra l'altro una nazionale importante, prestigiosa, perché il Marocco ha giocatori di qualità, è stata la sua prima convocazione, ha giocato, ha giocato bene, ha fatto un viaggio un po' lungo, però è già rientrato due giorni fa, adesso sta rientrando un po', non ha tanto problemi di fuso orario, perché non c'era, però di viaggio lungo sì, si è allenato già bene ieri, e il lunedì penso che sia pronto, ed è un giocatore venuto a fare i spenti, però si sta rivelando un giocatore molto importante ed è una soddisfazione per tutti. Mi piacerebbe anche farlo esordire Raspadori, perché è un ragazzo di qualità, che ha colpi, e probabilmente adesso con l'infortunio di Boga sarà aggregato sempre di più con noi, ma mi piacerebbe farlo esordire anche perché il settore giovanile del Sassuolo lavora bene, sarebbe anche un riconoscimento, un premio e anche una motivazione per i ragazzi che ci sono sotto a poter sperare anche loro, poter ambire anche loro a venire in prima squadra e a poter fare l'esordio, perché non è una cosa da trascurare per il livello di società, di squadra che siamo noi. Grazie. 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 Grazie.